Oggi siamo qui alla Maker Faire con Cristian di RushUp. Ciao Cristian, ci vuoi dire qualcosa di te di RushUp? Sì, buongiorno Clara, buongiorno a tutti. Io mi chiamo appunto Cristian Reineri, sono il co-founder e CEO di RushUp. RushUp è un'azienda partner di SD Microelectronics che progetta, realizza e sviluppa acceleratori di prodotto. Cloud Jam fa parte della famiglia di board dei Product Accelerator Jam e in particolare è la versione industrializzata di questo Function Pack. Il Function Pack è composto da quattro schede, la scheda base che è la Nucleo F401RE attraverso i connettori di espansione può accogliere degli accessori come ad esempio il Wi-Fi, Motion and Environmental Sensor, quindi sensori ambientali e di movimento e l'NFC. Se combiniamo tutte queste quattro board insieme creiamo uno stack up di board chiamato Function Pack, quindi ST ha dei sistemi di prototipazione basati su STM32 Nucleo, noi li rendiamo utilizzabili in produzione in versioni industrializzate e compatte, quindi con ST puoi prototipare e con le GEM puoi andare in produzione. So che fate anche parte dell'ST Partner Program, ci puoi dire cosa significa questo per RushUp? Sì esatto, l'ST Partner Program di cui facciamo parte per noi è importantissimo perché la tecnologia di base delle nostre schede è ovviamente quella di ST, per cui avere da ST la formalizzazione della partnership significa poter instaurare quel rapporto win-win che permette a noi di mettere nel mercato le tecnologie di ST e beneficiare di tutto quello che è il mondo anche di marketing di ST, quindi l'aiuto nel go to market. La dimostrazione è che oggi alla Maker Faire, come RushUp, siamo nello stand di ST a presentare i nostri acceleratori di prodotto. E allora grazie a Cristian e in bocca al lupo per il resto della Maker Faire. Grazie, grazie, buona giornata.